In molti mi avete chiesto perché ho iniziato Voglio essere la mano tesa che ti aiuta a rialzarti Voglio essere la voce che ti conforta quando sei stanco Voglio essere la forza nei momenti in cui ti senti giù Voglio essere la speranza nei momenti in cui l'hai persa Voglio essere la luce nei momenti bui Voglio essere la spinta di cui hai bisogno per riprovarci dopo un fallimento Voglio essere quella boccata d'aria dopo troppo tempo trattenendo il respiro Voglio essere quel posto sicuro dove puoi tornare ogni volta che il mondo ti opprime Voglio supportarti durante il percorso e celebrare con te quando ce la farai Voglio dirti ogni giorno che la vita è spettacolare e per quanto alcune volte non lo sembri C'è sempre un lieto fine per chi sa andarselo a prendere Voglio dirti che non sei solo per quanto quella stanza piena di gente possa sembrarti vuota Voglio dirti che non è così lontano quel sogno che sembra irraggiungibile Voglio dirti che la vita non è accontentarsi ma lavorare per quello in cui si crede e costruirsi il proprio sogno Voglio dirti di essere forte in ogni momento in cui la fiducia è svanita Voglio dirti che i momenti no, quei momenti bui pieni di rabbia e delusione fanno parte della vita ma non durano per sempre Voglio il meglio per te, non importa dove sei partito o dove stai andando Voglio che tu capisca che puoi migliorare e puoi essere felice Perché l'unica cosa che voglio veramente è aiutarti a vivere la vita dei tuoi sogni Ho deciso di documentare il mio viaggio e farlo attraverso video e audio E migliorando migliorerai anche tu e insieme saremo inarrestabili Grazie a tutti